L'informazione di Senigallia Web TV, l'aggiornamento di oggi lunedì 5 dicembre, Bentornati, referendum, il no conquista progressivamente consensi dal nord al sud della regione Marche, a Pesaro il no raggiunge il 52%, ad Ancora il 53%, a Macerata il 55%, a Fermo ed Ascoli il 58%, a Senigallia il sì raggiunge il 46,79%, il no il 53,21%. Cambiamo argomento, ripulito dai ladri il magazzino dello chef Fabio Mangialardi, fratello del sindaco di Senigallia, è stato proprio lui a sfogarsi comunicando sul suo profilo Facebook di aver subito il furto. Dieci anni di attrezzature acquistate, ha scritto Fabio, 10.000 euro spesi e ad oggi devo ricominciare, non ho più nulla. Anche il comune di Mondolfo corre ai ripari per contrastare l'aumento della prostituzione su strada, soprattutto nella zona al confine con Senigallia e lo fa attraverso un'ordinanza la 115 del 24 novembre scorso. Noi abbiamo provveduto con questa ordinanza proprio per cercare di dire che possa intensificarsi ed estendersi questo fenomeno. L'ordinanza noi l'avevamo già prevista ad agosto di quest'anno per qualche mese e abbiamo visto che abbiamo ottenuto dei buoni risultati, quindi per questo abbiamo fatto un'ordinanza adesso permanente a decorrere dal primo dicembre del 2016. Riguarda la strada statale 16, quindi via Foscolo, la via Cesanense nel tratto antistante il depuratore e il lungomare Colombo, quindi da via Foscolo al condominio Ledele, quindi la parte, la zona mare più vicina al confine con il comune di Senigallia. È prevista in base al decreto legislativo del 30 aprile 1992 una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 41 Euro ad un massimo di 168 Euro. Però abbiamo aggiunto con una delibera di giunta comunale la sanzione di 400 Euro per le violazioni che riportavo prima, proprio perché abbiamo voluto aumentare la sanzione proprio per dare un'impronta forte all'interno dell'ordinanza e per risolvere qui. Questo è un problema. Nuovo anno di servizio civile Caritas. Il servizio civile è un'esperienza che segna fortemente ogni ragazzo con età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è un modo per diventare cittadini attivi attraverso un anno di servizio alla comunità grazie a un progetto presso un ente in Italia o all'estero. Per tre dei ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile con Caritas Senigallia inizia oggi una nuova avventura. Da lunedì prenderà in via la loro esperienza di vita comunitaria che durerà fino alla fine del servizio, circa metà ottobre. È stato un appuntamento che hanno mancato in pochi, quello fissato per sabato 3 dicembre nella sala Gruppo Visa del Musinf di Senigallia, dove è stato presentato il catalogo L'Occhio Magico di Vito Maria Carfì. Il dettaglio diventa protagonista di una storia, ha spiegato la curatrice Simona Zava, e l'immagine è strettamente legata al titolo dell'opera, o meglio, il titolo stesso è parte integrante della nuova opera d'arte. Fino all'8 dicembre alla Galleria Expo Ex di Senigallia, presso i giardini della Rocca Roveresca, si terrà la mostra di presepi realizzati tra il 2003 e il 2015 dagli ospiti del centro diurno Alzheimer, Il Granaglio. Per coloro che fossero incuriositi un po' dalla dimensione della malattia di Alzheimer, di venire, ecco un invito, quello che faccio, proprio di venire alla mostra dei presepi, perché ci sarà la possibilità di vedere e meravigliarsi di fronte alle tante cose belle fatte dagli ospiti del centro diurno Granaio, che adesso è sito all'Opera Pia Mastai, in quasi 13 anni di attività. Sono lavori artigianali, sì, fatti manualmente, ma da che mani? Ecco, da mani ancora infragilite, ma piene di desiderio, ancora di esprimere il bello e le possibilità che scaturiscono da questa malattia, che non porta via tutta la voglia di vivere nella persona malata di Alzheimer, ma meglio di me può dirlo questa mostra, perché qui potremmo toccare proprio con mano e con gli occhi il bello di questa dinamicità ancora molto presente nei nostri malati. Sport, calcio, la passatempesia si conferma grande squadra, l'FC Senegallia conferma il mal di trasferta, queste due sentenze che emergono dal 3 a 1, che i giallobluosimani hanno inflitto all'undici di Stefano Goldoni. Per la terza volta consecutiva, dopo una bella vittoria casalinga, è arrivata una sconfitta esterna dei bianco-rosso-blu. Importante successo per la Vigo Senegallia, che batte 2 a 1 la belvederese nella dodicesima giornata del campionato di promizione Girone A. Pallavolo, l'US Pallavolo Senegallia Femminile, saluta con una bella vittoria l'arrivo di due nuovi sponsor, DG Design e Mimv Cioccolaterie, che da ora daranno la nuova denominazione alla squadra. Il match è stato vinto dalla DG Design Mimv Senegallia, a punto per 3 a 1 sul Calcinelli Lucrezia, nell'ottava giornata della Serie C femminile. In conclusione, come al solito, un'occhiata alle condizioni del tempo, questa volta di martedì 6 dicembre, cielo parziale o prevalente copertura prevista dissolversi durante le ore più calde della giornata. Non sono previste precipitazioni, i venti deboli da nord-nord-ovest, le temperature in lieve crescita. Previsioni elaborate da Assam. Grazie per averci seguito, anche per oggi è tutto. A domani. Grazie per aver guardato il video.